I familiari sempre più preoccupati chiedono tempo e soluzioni, la proprietà una proroga di 10 giorni e fa ricorso al TAR. Da lunedì 16 maggio, infatti, stando al provvedimento che si basa sul verbale della Polizia Municipale, scatta la chiusura formale della Casa Famiglia Armonia di Via Erbosa, gestita da Casa di Lucia. Per questo l'amministratrice, tramite il suo avvocato, chiede una proroga di 10 giorni per cercare di allocare gli ospiti che in questo momento hanno comprensibili difficoltà. La società che gestisce la residenza per anziani poi si è affidata ad un legale di fiducia che sta studiando le carte e ha ricevuto l'incarico dalla stessa proprietà di fare ricorso al TAR. Già prodotta la documentazione, la licenza per ospitare sotto forma di Casa Famiglia un massimo di 8 persone che abbiano un certo grado di autosufficienza. A creare il problema, infatti, sarebbe stato il riconoscimento dell'accompagnamento da parte dell'Inps agli anziani ospiti, un criterio che, per la normativa regionale, non sarebbe adeguato per l'inserimento in Casa Famiglia. La legge non ammette le alternative. Esco da questo incontro mortificata, sapendo che ho incontrato familiari a cui non stiamo garantendo serenità. Aveva dichiarato infine lo scorso martedì il vice-sindaco Lucia Tanti dopo aver incontrato i familiari degli anziani ospiti della Casa Famiglia.